A questo nostro primo incontro, a questa nostra prima uscita un po' più intima. Grazie. Sei felice? Sei contenta? Beh, se fossi felice, contenta e tutto andasse per come dovrebbe andare, non sarei nemmeno qua. Io in realtà molte volte da lui mi sento sminuita. È come se lui cercasse di mettermi in ombra e di soffocarmi. Sai che ho forti dubbi che lui riesca ad amare davvero? Perché a 42 anni, se tu sei ancora così, probabilmente tu non sei neanche in grado di amare. Sei d'accordo? Che vuoi fare? Farei quello che al momento, dico, ci viene meglio. Balliamo? Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.